Nasce a Palermo l'associazione Pensionati Sole nel quartiere di Corso Calatafimi, le interviste. Nasce nel quartiere di Corso Calatafimi l'associazione Pensionati Sole, un momento di incontro e di aggregazione tra tutti coloro che ormai dopo tanti anni di lavoro si ritirano e decidono di incontrarsi, di passare insieme del tempo, quindi tutto questo per lottare contro l'emarginazione sociale. Certo, per lottare contro l'emarginazione, anche perché considerando il fatto che il territorio è vuoto di centri sociali, di centri di riunione, diciamo io li chiamo anziani, che poi non sono anziani, sono persone che sono in pensione, che non essendo perché parecchia gente non è di Palermo, parecchia gente come forza di polizia che sono di paesi fuori, non hanno sbocchi, non hanno niente. Questa associazione è nata principalmente per incontrarsi tutti, qua sul po' è cercare di passare il tempo, la partitina, niente di particolare, la partitina, scambiare due parole, leggere il giornale, c'è un punto di ritrovo. Una casa famiglia, dai, per gli anziani, siamo tutti giovani, giovani e allegri. Tra l'altro ogni stanza è adibita ad un uso ben specifico. Sì, ogni stanza è adibita, ma per vari motivi, perché c'è chi vuole farsi la partitina, c'è chi vuole leggere il giornale, c'è magari chi vuole stare un po' più tranquillo, c'è chi vuole vedere la televisione e ci sono delle stanze adibite, tipo questa che vediamo qua, noi l'abbiamo chiamata una sala relax. Chi non ha voglia di farsi la partitina si guarda il televisore e si passa il tempo, perché non tutti vogliono giocare. A parecchi gli serve pure magari per avere scambio di idee con altri amici, altri colleghi, perché ti ripeto, questa è un'associazione che fa carabinieri, polizia, perrovia, tutti i pensionati di Cossola da qui. Qual è la sua impressione qui all'interno dell'associazione? Come vi trovate e cosa fate? Ma noi ci troviamo bene, perché l'abbiamo voluta, l'abbiamo creata e ci crediamo. Non abbiamo né ripensamento né niente, vogliamo crescere. Io sono contento, questi soci, ci stanno interessando questi colleghi, tre carabinieri che hanno fatto questa iniziativa di fare questa associazione, perché tutti i pensionati sono contenti. E noi ci siamo scritti, dietro la responsabilità di tutti quanti, che nessuno comanda, che siamo tutti uguali. Quindi siamo contenti che tutti si iscriveranno. Ma come si è ritrovato in mezzo a tutti loro? Mi trovo bene, perché quasi quasi che loro mi temano, perché io, essendo il meno giovane della comitiva, e quindi se dico qualche cosa loro mi ascoltano. Grazie a tutti.